Allora, ragazzi, mandiamo adesso la poesia di Alyosha, che si chiama Questo è un sole mitallaro dadaista. Ascoltiamola. Non si trova più niente che possa soddisfare in questo ormai tedioso piatto sistema solare tanti semi e una sola civiltà vive e si affanna. Ma si crea solo dopo essersi fatta una canna, unica consolazione dalla merda quotidiana, adorare il nostro caro solo che ci dà il nirvana. Può sembrare in apparenza violento, ma è solitamente un pochino egoista, musica che crea volentieri, io la sento. Questo è un sole mitallaro dadaista. Questa società mi fa proprio schifo, veramente, comune buonsenso di giustizia, sempre latente. Pur laddove si era sperimentato nel progresso, buone intenzioni hanno lastricato soltanto il cesso. Doveva essere modello da prendere, ad esempio. E invece i criptomercanti invaser questo tempio. A voi sembrerà forse un gran cialtrone? Ogni cent'anni vuol fare l'esibizionista? Ma credetemi, non è un coglione. Questo è un sole metallaro dadaista. Non c'è governo che ti dia un po' di speranza. Il partito ovunque attuale è quello della panza. Esso ci avrà sempre garantita la maggioranza. E io mi vorrei chiudere sempre nella mia stanza, che di questo vomito fecale ne ho abbastanza. Mi salvo? Mi salva andare al ritmo della nostra tribaldanza. Penserete che è un gran bastardo, con una smodata tendenza nichilista? Di tutto può essere men che codardo. Questo è un sole metallaro dadaista. Ma come non bastasse pur l'arte infetta? E quando non gli basta più tossico si inietta? Ho pura brillante idea di andare in una setta, ma basterebbe ciucciare alla donna la tetta, poi da una gigante torta, ritagliarsi un'affetta, individuo e non società. La felicità ti aspetta. Voi lo vedete come un essere pedante. Errate, è un teoretico massimalista. Non disdegna marcare da arrogante. Questo è un sole metallaro dadaista. Non disdegna marcare da arrogante. Questo è un sole metallaro dadaista.